La procura di Trani ha aperto un fascicolo per far luce sulla morte drammatica di Gian Battista Zerbino, il 49enne tranese deceduto ieri mattina in stazione dopo essere rimasto incastrato in qualche modo tra le porte del treno da cui stava scendendo ed esser trascinato inesorabilmente per centinaia di metri prima che il capotreno si accorgesse di cosa stava accadendo. Diversi punti da chiarire e su cui le indagini proveranno a fare chiarezza qualcosa evidentemente non ha funzionato, il dramma si è consumato alle 8 e 38, Zerbino tranese ma residente abitetto ha tentato di scendere all'ultimo istante dal convoglio un treno regionale proveniente da Bari e diretto a Foggia ma a quel punto le porte si stavano già chiudendo, il 49enne è rimasto bloccato tra le porte che non si sono riaperte, a quel punto il treno è ripartito e il corpo dell'uomo è stato trascinato per diverse centinaia di metri, quando il treno si è fermato quasi all'altezza di via Andrea per Zerbino era ormai troppo tardi, i soccorritori giunti sul posto ne hanno solo potuto constatare il decesso, sul luogo della tragedia anche polizia e carabinieri le indagini sono affidate alla polizia ferroviaria, una morte brutale sulla quale la procura di Trani vuol fare luce, Zerbino secondo alcuni testimoni avrebbe tentato di scendere dal treno all'ultimo istante, circostanza piuttosto comune, certamente non il primo caso, gli inquirenti verificheranno il normale funzionamento dei dispositivi di sicurezza e anche altri aspetti di una vicenda che ha tolto la vita al 49enne tranese di nascita e residente abitetto a Trani ieri mattina era tornato per svolgere un lavoro, un epilogo sconvolgente e che chiede verità